Signore e signori, buongiorno, benvenuti in questo nuovissimo video, è sempre qui dallo studio il vlog con il microfonone dalla postazione. Sto facendo delle aggiunte in modo che anche questa ripresa sia molto più sensata. Ma oggi, come vi dicevo, nel titolo parliamo di tasse. Ora faccio una premessa importante, ragazzi, questa è la mia conclusione. Non sono tutte informazioni da prendere alla lettera. Prendete tutto con le pinze, sempre, come vi dico, da una vita. Non è uno studio, non ci sono statistiche, sono le idee che mi sono formato io e che ho deciso di seguire io, voi liberi di fare come meglio credete. Allora, molte persone mi hanno chiesto su Instagram, quando lo scorso novembre ho fatto delle storie, insomma, stavo andando, non mi ricordo dove, forse a Bali, ero in aeroporto e mi sono arrivati gli F24 da pagare, li ho pagati, ho fatto delle storie a riguardo, perché ogni volta che mi arrivano gli F24 da pagare, comunque, nel senso, sono belle batoste, soprattutto a novembre che sono gli acconti. E quindi mi sono messo lì, ho fatto delle storie, ho detto, ah, cacchio, però di qua, di là, insomma, non mi ricordo neanche cosa è che ho detto. E tantissime persone mi hanno scritto, vabbè, ma perché non ti trasferisci a Dubai o in Portogallo, alle Canarie e così via. Quindi volevo raccontare un attimino del perché io, nonostante faccia un lavoro che è molto, diciamo, trasferibile all'estero, se vogliamo, un lavoro che si può fare da tutte le parti del mondo, anche con una fiscalità agevolata, perché ho deciso di rimanere in Italia e perché pago le mie tasse in Italia. Tra l'altro pago le mie tasse senza, diciamo, formule vantaggiose al momento, ma proprio pago il massimo che posso pagare. Ecco, devo fare una piccola premessa. Come sapete, ho realizzato un video qui, forse l'anno scorso, in cui parlavo dei miei problemi con l'agenzia delle entrate. Per scaramanzia non dico nulla, però, insomma, dovrei avere degli aggiornamenti a breve, sempre su quel discorso lì, che ha interessato me, come ha interessato tantissimi altri creator qui nella piattaforma, non solo su YouTube, un po' in generale su internet. E quindi, a maggior ragione, se hai avuto anche dei problemi con l'agenzia delle entrate, perché sei ancora in Italia e non te ne vai all'estero, dove paghi sicuramente meno tasse e magari puoi anche avere un clima più mite. Non lo so, 8.000 cavolate che si possono dire, che poi cavolate possono essere anche assolutamente vere. Allora, io ho fatto i miei ragionamenti. Quando, qualche anno fa, per la prima volta, mi sono interfacciato con l'agenzia delle entrate, e abbiamo dovuto risolvere dei problemi, che per inciso sono risolti, quindi voglio anche sottolineare questa cosa qui. Mi si sono presentate diverse opportunità, soprattutto per via dei miei consulenti e avvocati, e ho fatto diverse chiamate, diverse call, diverse riunioni, in cui mi hanno presentato tantissime, ma più di una manciata, proprio erano sei o sette alternative, per inquadrare la mia posizione all'estero, tramite società o, diciamo, comunque anche trasferendomi in alcuni posti, che mi avrebbero dato dei vantaggi importanti dal punto di vista fiscale. Ora, è vero che il mio lavoro lo posso fare da dove voglio. Mi basta una connessione a internet e un computer e un telefono, potenzialmente, per registrare e poter lavorare da qualsiasi parte del mondo, cosa che già faccio. Ci sono due motivi principali per cui ho deciso di rimanere in Italia. Il primo è lo stile di vita italiano, perché di tutti i paesi che mi avevano proposto, c'erano tante soluzioni in Svizzera, mi avevano proposto in Lussemburgo. Però, insomma, come si vive in Italia, per quello che mi riguarda, non si vive da altre parti, perlomeno non con lo stesso mood, nel senso, puoi trovare sicuramente degli stili di vita incredibili in tantissime parti del mondo, mi piace tantissimo viaggiare, ma come mi trovo in Italia, ma non solo in Italia, come mi trovo a Milano, devo dire che non ho particolari lacune da riempire, ecco, mettiamola così. Chiaro che non sto mettendo paragone Milano con tipo New York o Londra o così via, però anche lì, se vogliamo parlare di costo della vita e di fiscalità, sarebbero di vantaggio, ad esempio, a Londra. A New York anche lì le tasse sono altissime, più l'assicurazione medica, insomma, ci sono delle menate e a parità di menate io sto bene in Italia, quindi questa è la prima ragione per cui io ho scelto di rimanere qui. Un corollario di questa scelta è il cibo, perché in Italia si mangia davvero bene e a me mangiare bene piace. Se ci troviamo una situazione in cui devo mangiare male, mi stai facendo un dispetto, diciamocelo, perché oggi ci sono, domani no, e io voglio mangiare bene e voglio vivere bene. Un'altra cosa importantissima per me è il fatto che Milano è vicinissima a tantissime città, è ben collegata, nonostante abbiamo i nostri problemi in Italia, lo sappiamo tutti, ma anche a Milano abbiamo i nostri problemi, però io in dieci minuti di taxi mi trovo a Linate e da Linate posso andare dove voglio, quindi anche proprio la vicinanza all'alloporto e tutto il resto, cosa che c'è anche in Svizzera, ma con la Svizzera non ho un buon rapporto, ragazzi, non saprei cosa dirvi, perlomeno per il momento. E l'altra cosa che mi ha convinto restare nell'Italia è che ci sono, se vuoi, degli stratagemmi completamente legali per risparmiare delle tasse. Ora, non sono qui a dirvi, ah, devi fare così, devi fare così, perché, come vi dicevo, io ho il regime ordinario, pago il massimo, non ho neanche, diciamo, una mia SRL personale con cui pago il 27.5, che magari riutilizzo i capitali in altri modi, che sarebbe sicuramente intelligente, ma proprio il contrario. Io ho una letta individuale, ho il mio regime ordinario, pago il massimo, io ho il mio scaione del 43% di IRPEF più l'IMS e così via. Però, come vi dicevo, ci sono dei piccoli stratagemmi, per cui ho fatto dei conti e ho detto, ma sai cosa, se voglio lavorare al livello a cui voglio lavorare, quasi quasi in Italia ha anche senso starci, soprattutto considerando quel primo aspetto. Sto parlando di alcune piccole cose. In primis il reddito della capitale, che in Italia è tassato diversamente, molto diversamente rispetto al reddito dal lavoro. Ci sono delle cedulare secche, ma soprattutto io sono in regime di impresa, quindi ho una tassazione, in qualche modo, agevolata sul reddito della capitale, sulle dividendi, quindi sulla distribuzione degli utili e così via. Come c'è la cedulare secca sui affitti. Insomma, possiamo fare un discorso su questo mondo qui. E visto che parliamo di reddito della capitale, vi voglio parlare di Trader Public, con cui questo segmento di video è realizzato in collaborazione. Si tratta di una piattaforma di fiducia di cui vi ho già parlato anche in passato. C'è una vastissima scelta di azioni, ETF, anche per creare dei pieni d'accumulo. E questo permette di investire nel futuro con continuità, anche andando a sopperire a quelli che sono gli alti e i bassi del mercato. In oggi ci sono delle funzioni sicuramente interessanti, tipo la possibilità di maturare ogni mese degli interessi del 4% anno sul capitale non investito, quindi i soldi che avete fino a 50.000 euro, ma soprattutto una funzione utile che potete investire nell'entità che preferite, quindi anche con un solo euro. Inoltre vi anticipo che Trader Public ha una novità in cantiere. Si tratta di una carta Visa che permette di unire spese al risparmio con un saveback dell'1%. Come funziona? Molto semplice, con ogni pagamento effettuato con la carta, Trader Public ti restituisce, ti dà indietro l'1% sotto forma di investimento nei tuoi piani. Ma, ad esempio, è anche possibile arrotondare per eccesso gli importi e quell'eccesso viene investito sempre nei tuoi piani, nelle tue posizioni. Come Trader Public anche la versione virtuale della carta è gratuita e non prevede canoni di abbinamento mensili. Ma se volete avere la fisica potete, potete prendere la versione Mirror o Classic. Come sempre, massima sicurezza nell'utilizzo, quindi notifiche istantanee quando c'è un pagamento e la possibilità di sospenderla quando meglio credete. Vi lascio il link in descrizione per maggiori informazioni. Ora, ecco il ragionamento che ho fatto io per quello che riguarda la fiscalità. È vero, paghiamo il 43% di tasse, però rispetto ad altri paesi, per lo meno in cui non pallesi fiscali, non è il Dubai di turno, questo 43% di tasse che pago dovrebbe garantirmi dei servizi, tra cui la sanità pubblica, la sicurezza e così via. È vero, Milano ci sono pro e contro, ma io, avendo viaggiato un pochino, sono stato in una città come Los Angeles, una città come New York, anche Washington l'anno scorso, e posso dirvi che la sicurezza che abbiamo in Italia, per quanto si possa sentire continuamente di cose come è normale che sia in una grande città, io mi sento molto più sicuro a Milano che non in altre città. Quindi c'è il fattore dei servizi che ti vengono istituiti per la tassazione. Ora, devo dirvi la verità, c'è un elemento importantissimo, oltre alla tassazione di reddito da capitale, cioè l'IMS. Io, in quanto lavoratore, devo pagare anche l'IMS, però moltissime persone non sanno una cosa, che l'Italia, in qualche modo, dà favore a chi guadagna tanti soldi. Cosa vuol dire? Che c'è un piccolo sweet spot dopo il quale non hai bisogno, non hai l'obbligo di versare i contributi. Cosa vuol dire? Mi spiego meglio. In Italia abbiamo il minimale IMS. Chi lavora, chi ha comunque una sua attività o anche la busta paga lo sa, c'è un minimale sui contributi che vanno versati. Io sono iscritto alla gestione separata, che ho anche un massimale, cioè l'IMS si paga un minimo e fino a un massimo. E aumenta ogni anno, perché chiaramente lo Stato ha bisogno di soldi, però l'anno scorso era 113.000, il massimale IMS su cui si pagano i contributi, l'anno prima ancora era 104.000 e quest'anno, se non sbaglio, dovrebbe essere 119.000. Vuol dire che io, che fatturo comunque delle cifre importanti, sopra i 119.000 euro non dovrò più versare i contributi. Quindi il mio massimale di imponibile è quello lì. Vuol dire che quest'anno io dovrò versare, facciamo 119.000 a prossimo l'aliquota a 26%, se non sbaglio, per l'IMS. Vuol dire che io quest'anno dovrò versare 31.000 euro di IMS e poi l'IMS basta, non ne sento più fino al 2025. Quindi questa è stata una cosa che comunque mi ha, quando l'ho scoperta anni fa, ho detto vabbè dai almeno questo, perché se devi dare anche l'IMS in progressione a tutto con i guadagni, cioè davvero arrivi a una pressione fiscale elevatissima. In questo modo invece, quando superi un certo fatturato, tu paghi il 43%, perché se fatturi un milione con la tua ditta individuale, molti commercialisti diranno, ah, ma ti conviene fare l'SRL di qua di là, vabbè, lasciamo stare questi argomenti. Io ho fatto un piccolo foglio di calcolo in cui ho provato a immaginare cosa volesse dire comunque questa cosa. Il massimale di IMS, come vi dicevo, quest'anno è di 119.000 euro, forse qualcosa di più. Mettiamo caso che io in un anno fatturo mezzo milione, quindi faccio mezzo milione di utile, in questo caso stiamo parlando, quindi ho già levato tutti i costi. Quante tasse dovrò pagare? L'IMS è cappato, pago 31.000 euro, e il resto pago l'IRPEF, quindi sono 194.000 euro, che sono 43%, in realtà è un po' meno del 43%, perché nella formula io vado a rimuovere le tasse che pago fino ai 50.000, perché anche quelle sono cappate fino ai 50.000. Tutto quello che supera i 50.000 è il 43%. Onestamente sono entrato anche in un mindset un po' diverso, quindi va bene il cap dell'IMS che mi fa risparmiare, sicuramente, rispetto a quella zona grigia in cui guadagni magari 100-150.000 euro all'anno, in cui l'IMS è una parte importante di quello che dai via. Invece, come potete vedere, quando ragioniamo su cifre più alte, ad esempio, non lo so, facciamo un minore di profitto, vede che l'IMS rimane cappato a 30.000 e su il 968.000 che rimangono pago meno della metà alla fine. Quindi come persone fiscali, dal punto di vista, non è che siamo messi male, ma non siamo messi malissimo rispetto ad altre realtà. Ci sono paesi in Europa in cui la tassazione è più alta. Persone fiscali 44,05. E come dicevo, dopo aver fatto questi ragionamenti, ho anche iniziato a vedere diversamente quello che è il mio investimento nel paese. Io pago le tasse in Italia quando potrei pagarle in qualsiasi altro paese e andrei a vivere in un posto al caldo. Perché? Perché un po' credo nell'Italia e alcuni mi dicono scemo per questo, però voglio dire, perché voi non ve ne andate? Ah, perché non posso? Non è vero. Uno può andarsene se vuole. Io credo nell'Italia, ma oltre a quello, ogni volta che ora vedo una pattuglia dai carabinieri, una pattuglia della guardia di finanza, vedo i pompieri, passo davanti ad un ospedale e dico io contribuisco nel mio piccolo a far sì che queste realtà siano operative, che funzionino. Per quanto se ne dica, comunque siamo una delle economie più forti al mondo, non la più forte sicuramente, neanche nel podio, però siamo tra le più forti. La nostra sanità, per quanto abbia problemi, è una sanità importante e quindi mi sento di star contribuendo a questa cosa. Quindi la mia è una scelta, è una scelta conscia. Con l'obiettivo di comunque aumentare il mio patrimonio nel corso degli anni, c'è anche un'altra cosa importante, cioè il fatto che noi abbiamo una tassazione, in qualche modo, se vuoi, leggermente agevolata per alcuni settori, cioè gli imprenditori, no? Se io prendo degli utili da un'azienda, quindi non un radito da lavoro, di ditta individuale, ma sono socio di un'azienda e la mia azienata particolarmente bene, e io mi tiro fuori mezzo milione di utile quest'anno con la mia quota. È andata benissimo. Ci sono diversi modi di pagare le tasse. Intanto la tassazione è agevolata di base perché già paghi delle tasse con l'azienda che è il 27%. Tu paghi, in teoria, il 26% di capital gain tax, che è la stessa che si paga, ad esempio, quando prendi i dividendi anche dalle azioni e così via. Ma se sei nel regime di impresa, come me, in realtà anche qui hai un piccolo vantaggio, perché il regime di impresa, l'imponibile, viene calcolato sul 58% degli utili. Quindi io devo prendere mezzo milione, mettere 58% nella formula, che ora non vedete qui, però è messo in alto, questa cifra qua, e tra una cosa e l'altra pagherò un po' meno tasse. Quindi pago le tasse su 117.000 euro, sempre con la mia aliquota del 43%, perché pago l'aliquota massima. Vuol dire che al posto di una pressione fiscale sui dividendi del 26%, posso pagarla del 23.5%. anche qui un piccolo risparmio. Stessa cosa in teoria con gli affitti e così via. Quindi nell'ipotesi di accumulare un po' di capitale nel corso degli anni, magari di investire in immobili e così via, diventa interessante perché molti di questi capitali messi a rendita avranno una tassazione più agevolata rispetto al fantomatico 43% della persona fisica. C'è da dire anche che in questo discorso molte persone preferiscono farsi l'SRL perché possono gestire meglio i costi di rimborso amministratore oppure mi pago il marchio tutte queste cose qui che sono legali e si possono fare nulla di male. Però per quello che mi riguarda io ho fatto il conto e io non sono interessato a mantenere i capitali nell'azienda non per il momento. Io quello che guadagno lo voglio distribuire a me come persona. Voglio prendermi i miei utili e facendo il conto in realtà risparmi qualcosina, qualche punto percentuale ma pochissima roba con la ditta individuale anche perché i soldi che poi ti rimangono nell'SRL non è che puoi usarli come vuoi. Io invece i soldi che guadagno li ritiro tutti sicuramente l'SRL tira più controllo però per quella che è la mia diciamo situazione di vita al momento non è un qualcosa di cui ho bisogno. Quindi questi più o meno sono i motivi per cui ho deciso di restare in Italia. Uno lo stile di vita che per me è comunque importantissimo. Numero due il massimale dell'IMS che sembra una cavolata però se anche su tutto quello che guadagni devi dare di base anche il 26% dell'IMS vuol dire che su un milione devi dare via più di 200.000 euro così solo per i contributi e in più le tasse diventava un salasso incredibile e vi devo dire già che ogni anno aumentano il massimo l'IMS di quei 5-6.000 euro se continua così magari questa voce dell'equazione dovrò barrarla e tra qualche anno mi trasferirò anch'io all'estero. Non lo so. Questa è la mia situazione attuale. Poi ripeto prendete tutte queste informazioni comunque con le pinze. Vi sto parlando di quella che è la mia scelta che può essere una scelta informata o meno però sono le conclusioni a cui sono arrivato io. L'altra cosa è che mi sento comunque di star contribuendo al paese alla sanità pubblica alla sicurezza alla ricerca e alla politica anche se per quello e a tutto ciò che ne consegue e soprattutto perché la tassazione alla fine tra una cosa e l'altra non mi sento di cioè mi sento guadagno tanto è giusto che paghi più tasse e il 43% soprattutto quando superi quel limite del massimale IMS forse il doppio del massimale IMS se proprio dobbiamo dircelo mi sembra in realtà una tassazione in realtà abbastanza equa. Ho iniziato anche ecco questa è una cosa importante soprattutto se è una dita individuale o comunque un SRL quindi devi pagare anche gli acconti quando inizi a vedere gli acconti come quando pago l'acconto sto pagando le tasse sui soldi che ho dagnato quest'anno quindi io le tasse le pago a novembre in realtà a giugno c'è solamente il saldo quando inizi a ragionare così diventa più facile anche gestire le economie ed evitare diciamo sorprese con l'IVA e tutte le scadenze degli F24 e così via. Sono sicuro che sotto questo video si creerà una discussione interessante e magari potrebbe portare poi a rispondere in dei futuri video e parlarne diciamo magari fare un confronto anche con qualcuno perché no. Per il momento comunque è tutto vi ricordo il link in descrizione per Trade Republic che ha gentilmente sponsorizzato un segmento di questo video e noi ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi contenuti ciao turuturo tutti